La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E c'è un altro cambio di categoria qua, ce ne sono tante di categorie questa sera, parliamo in questo caso di Banking & Finance e del premio eccellenza dell'anno Leasing. Il premio va a Societe Generale Equipman Finance Italia. Eccoli qui in prima fila, naturalmente vi invito a percorrere tutta la passerella per arrivare sul palco. Intanto leggiamo la motivazione per confermarsi anno dopo anno sul territorio nazionale come eccellenza e maggiore player del settore per la capacità di trasformarsi seguendo i trend e le evoluzioni del mercato, come dimostrano gli oltre 40 anni di attività portati avanti con successo e determinazione, puntando sempre sull'ottimizzazione della qualità dell'offerta. Grazie a voi, naturalmente. Allora posizionatevi tutto il gruppo su questa linea per la foto. Banking & Finance, eccellenza leasing dell'anno. Societe Generale Equipman Finance Italia. Complimenti. Complimenti, buona serata. Siamo in compagnia di Olivier Furlan, amministratore delegato di Societe Generale Equipman Finance Italia. Benvenuto. Grazie. Dottor Furlan, ormai siete una società, insomma, di una realtà di riferimento nel settore del leasing e il riconoscimento che avete ottenuto alle Fonti Awards questa sera, insomma, ne è una conferma. Ecco, le chiedo a proposito un commento a questa vittoria. Beh, direi che il primo commento che mi viene spontaneo è un grande ringraziamento alle Fonti Awards, a tutto il nostro personale, ovviamente a tutti i miei partner, perché noi abbiamo tantissimi partner, e agli azionisti che ci permettono di operare da tantissimi anni per arrivare a questo traguardo che se non erro è il decimo premio. Oggi si parla molto di brand reputation, quindi come un asset fondamentale per le società, le organizzazioni, anche per conquistare, diciamo, l'affidabilità del cliente. Ecco, le chiedo come siete riusciti a costruirne una così forte e anche cosa vi contraddistingue dai competitor in questo senso? Allora, ci sono più componenti in tutto questo. Come ho detto, è la decima volta che ci vediamo per questo premio. Cosa vuol dire? Vuol dire due cose fondamentali, la continuità dell'operato e la qualità dell'operato nel tempo. Noi siamo una società un po' particolare, certo siamo una società finanziaria, ma siamo soprattutto una società, diciamo, di servizio che mette a disposizione dei nostri partner e clienti quello che chiamerei mezzi finanziari, cioè capitale e liquidità, e mezzi tecnici, quindi consulenza per permettere, direi, a società di trovare soluzioni finanziarie al loro livello. E qui sto parlando di un tipo di aziende che sono più piccole, nel senso SME, Midcap e Artigiani. Il secondo punto da inquadrare molto bene è il fatto che noi non siamo una captive di una banca. E questo fa un'enorme differenza per due cose. La prima cosa è un livello di indipendenza molto grande, quindi decidiamo noi cosa facciamo, come allochiamo le nostre risorse. E secondo, quello che chiamerei una neutralità e che ci permette un'equità. Mi spiego meglio. Noi trattiamo tutti i nostri partner esattamente allo stesso livello, non c'è una differenza. Quindi non abbiamo conflitti. Quindi un partner che entra, un partner che esce, per noi è gestito nello stesso modo. Non ha impatto quel condo a breve termine, ma le nostre attività che sono meglio e lungo termine è fondamentale, è totalmente fondamentale. E poi, ultima cosa, ovviamente la continuità e la qualità dell'operato, come ho detto prima, è totalmente fondamentale, perché se non c'è, se c'è un problema, mi spiego meglio. Noi abbiamo sempre deliberato mezzi finanziari al mercato nella continuità e non è il caso dei nostri competitor. Cioè abbiamo visto competitor ridurre sensibilmente i mezzi a disposizione, noi mai. Quindi questo punto di forza, enorme punto di forza. Ecco, lei ci ha raccontato appunto, come diceva lei, insomma, i punti di forza della vostra realtà. Ma le chiedo anche magari i servizi che vi caratterizzano e anche i progetti e gli obiettivi futuri che vi siete prefissati. Sì, allora, quello che ci contraddistingue, ma che contraddistingue, direi, le società di servizio o finanziari di servizio è il valore aggiunto. Cioè mettere a disposizione dei clienti dei soldi è estremamente facile. Ma dare un servizio che chiamerei di consulenza su tematiche tecniche è un altro mestiere. E noi, per esempio, siamo estremamente forti nella tecnicità immobiliare, nella consulenza immobiliare. Lo siamo anche per l'uso degli incentivi statali. Adesso facciamo un grande investimento su quello che chiamo tutti gli aiuti a permettere alle piccole aziende di come dirigersi sulla transizione energetica. E a proposito, direi, è un punto chiave questo, perché adesso c'è una nuova parola chiave che si chiama ISG in inglese, che crederei, transizione ambientale e sociale. Qua partiamo tutti allo stesso livello, cioè a zero, e dobbiamo veramente fare un'altra strada insieme e chi avrà la capacità di strutturarsi per diventare il consulente delle piccole e medie aziende avrà un nuovo valore aggiunto fondamentale per la trasformazione delle aziende. E quell'investimento lo stiamo facendo, lo facciamo anche per noi, perché ci dobbiamo anche trasformare noi. Cioè, per esempio, abbiamo cambiato il parco macchina, non è più diesel, stiamo cambiando l'ufficio, che adesso sarà una classe A, cambiamo, non so, non ci sono più biotidiette di plastica, stiamo eliminando la carta, quindi un'evoluzione notevole. Ma se all'interno dell'azienda non c'è questa trasformazione culturale, è estremamente difficile dare il servizio giusto ai clienti. Quindi facciamo i due processi insieme e penso che questa sarà una grande chiave del futuro, non solo nostro, ma di tutte le aziende. Bene, grazie e complimenti. Grazie mille e spero all'anno prossimo allora.